E' stato un anno indubbiamente, sono stati due anni indubbiamente intensi da quando insomma sono arrivato a gestire questa azienda, anni in cui abbiamo rimesso a posto i conti, in cui siamo entrati in nuovi mercati, ci siamo affacciati a nuove applicazioni, oggi non è caso siamo qui a Oil Non Oil anche per presentare il nostro fuel maker a idrogeno, una soluzione di compressione piccola, economica, che passa da pochi millibar a 350 bar, indubbiamente sono stati anni di grande lavoro sull'idrogeno, ma non solo, eravamo un mese fa a Ecomondo a presentare una nostra soluzione biometano, eravamo due mesi fa a Brema a presentare una soluzione di compressione idrogeno, insomma siamo molto attivi. Vediamo per quanto riguarda l'Italia e il CNG un ripartire, anche se in maniera lenta ma costante, dell'erogato e insomma in generale del paese, quindi siamo relativamente positivi anche sul 2024. Il post vendita è un elemento chiave, ci siamo concentrati per tanti anni sulla vendita del nuovo, ma ci siamo resi conto che la customer orientation e la cura del cliente è fondamentale, non ce lo insegna soltanto la mobilità nel CNG, ma ce lo insegna anche e soprattutto oggi il biometano e l'idrogeno. Per rispondere alle nuove esigenze del mercato abbiamo quindi sviluppato un dipartimento che abbiamo chiamato After Sales Commerciale, che abbiamo arricchito anche di persone sia interne che provenienti da fuori l'azienda. Abbiamo confermato e consolidato i nostri contratti con i centri di assistenza tecnici italiani, li abbiamo arricchiti perché ne abbiamo aggiunti altrettanti per garantire una copertura territoriale più che sufficiente. Abbiamo investito centinaia di ore in formazione dei nostri centri di assistenza tecnica proprio per garantire che siano in grado di rispondere ai livelli di servizio crescenti dei nostri clienti e ultimo ma non ultimo, oltre ai servizi full service, siamo oggi in grado anche di fornire in pronta consegna tutta una serie di ricambi originali Cubo Gas.